Oggi voglio chiarire una cosa che mi sta particolarmente a cuore. Ormai è chiaro a tutti il fatto che a me del giudizio vostro non interessa nulla. A me le vostre offese, le vostre critiche quando non sono costruttive, scivolano addosso quando sono pretestuose, come l'acqua calda sotto la doccia. Proprio mi scivolate addosso. Non scalfite per nulla il mio pensiero. Anche perché pensandoci bene nessuno vi paga per guardare i miei video, i miei post. Vi capisco, perché probabilmente siete attratti anche voi dal fascino del grande Simone Carabella. Lo sarei anche io al posto vostro. È normale. Molti di voi trovano ragione di vita nel guardare i miei video e nel criticarmi. Ci sta, ci sta. Ma ci sono dei punti che non sono valicabili e qualcuno invece li oltrepassa. E questo mi dà molto fastidio. Spesso per offendermi usate degli appellativi, attenzione che per voi sono offese, per me no, ma che toccano una categoria di persone che mi sta particolarmente a cuore. Su YouTube, su Facebook, su Instagram mi offendete dandomi del celebro reso, dell'handicappato, del disabile, del down. Primo, sappiate tutti che per me queste non sono assolutamente offese, perché io conosco persone speciali che hanno sicuramente più palle di voi e che sarebbero in grado di scrivere la storia sicuramente in maniera più incisiva di come la scrivereste voi piccoli uomini. Secondo perché si va a colpire gratuitamente una categoria che non può difendersi, quindi siete anche dei vigliacchi, siete dei vigliacchi, dei pavidi. Io qui lo chiudo il video perché non mi interessa andare oltre. Questo fa di voi uomini ancora più piccoli. Già un uomo è un regalo che vi faccio. Però è fondamentale capire che per me essere accostato a quelle categorie di persone non è un'offesa, anzi, è un privilegio. Perché conosco ragazzi down, conosco ragazzi disabili, conosco ragazzi anche con malattie neurodegenerative che sono a letto e muovono soltanto gli occhi, che con le loro azioni stanno scrivendo in maniera forte la loro vita e spesso anche la vita degli altri, senza invidia, senza rancore, senza cattiveria, ma soltanto con la voglia di continuare a vivere. è probabilmente quella voglia che a voi manca perché presi dall'onda che sta vivendo oggi la nostra nazione diventate persone cattive e squallide, misere, povere, piccole. Ecco, io con persone come voi parlerei a quattro occhi per capire quanti neuroni sono rimasti nelle vostre teste funzionanti, forse per la troppa droga che avete preso, forse per il troppo alcol che avete bevuto, o forse semplicemente per l'invidia che provate. sappiate che Carabella vi perdona e vi ama, ma non esagerate, che vi piaccia o no, utilizzando la legalità e andando avanti come sempre per la mia strada, vi riprenderò tutto, tutto, parola mia, parola mia.